Buongiorno a tutti, io sono Paolo Semelli, ho 22 anni e sono un autore di poesia e da oggi mi occupo anche delle recensioni per quanto riguarda la poesia del libro del martedì sono il referente del gruppo che recensirà la poesia oggi iniziamo con le recensioni e come prima recensione me dedicherò al libro di Davide Maselli Caos di cose a caso, mi rendo conto che voi lo vedrete al contrario però purtroppo non mi sono ancora attrezzato a dovere per fare dei video e quindi per oggi andrà così comunque il libro è edito da Rupe Mutevole, il prezzo di copertina è di 10€ e il libro ha 48 pagine se non sbaglio no, 43 dunque, cominciamo subito col parlare della struttura di questo libro e dico subito che il libro è diviso in tre aree, in tre macro strutture è macro, è dire troppo visto che il libro è brevissimo però diciamo che sono tre tre differenti sezioni molto diverse tra loro la prima sezione ha un titolo e si intitola nella tela di ragno vabbè io lo faccio vedere lo stesso, si vedrà al contrario purtroppo per oggi va così e la prima sezione è nella tela di ragno dunque, vabbè, nomino già le tre sezioni la seconda sezione è composta da una sorta di poemetto teatrale che è la Vergine di Scisa e la terza sezione è quella della poesia vera e propria e si intitola appunto poesia per iniziare io leggerei la frase che l'autore mette all'inizio del libro penso che questa sarà una cosa che farò per ogni libro che recensirò e Davide, Davide Maselli all'inizio del libro fa una sorta di dedica e dice forse scrivo questo perché ho bisogno di essere una persona migliore ma non trovo ancora l'intenzione i fiori del male insegnano a coltivare profumi di orti sconosciuti vedete come già appare ben definita una sorta di caratteristica di Davide che è quella dell'introspezione verso se stesso che è una caratteristica un po' di tutti i poeti ma a questo Davide abbina certamente una certa passione per l'esoterismo e per il mondo dell'introspezione anche all'interno della realtà dunque la prima parte è sicuramente influenzata o almeno lo stile è quello dal libro dell'inquietudine di Bernardo Soares o Fernando Pessoa infatti possiamo vedere come le varie parti siano in prosa siano più aforismi che in realtà dei brani e siano divise da delle greche che fungono solo da divisore tra una frase e l'altra e perché si chiama la prima parte nella tela di ragno? beh io è una mia interpretazione chiaramente penso che si tratti di una sorta di trappola che l'autore fa nei confronti del lettore portando, sballottando da una parte all'altra il lettore nelle proprie divagazioni io per spiegare quello che sto dicendo ora leggerei un pezzettino che lascia bene intendere qual è l'intento dell'autore con questi brani penso di non sentire qualcosa mi manca una parte di questa vita non sento il mio pensiero se mi provo di sentirlo non lo sento non sono il mio pensiero oppure semplicemente non lo sento come facoltà possibile tra le molte oppure ancora se sono il mio pensiero allora non esisto in questi momenti forse davvero riesco a non esistere ma io non lo so cosa sono quando forse non sono potrei essere quella parte della vita che non sento che sarebbe, saremmo, il mio pensiero mio? non credo si tratti del mio seppure pensiero è troppo stupido sembra che anche questo manchi a sua volta di qualcosa non solo io che non lo sento nel non sentirlo e mi sforzo di sentirlo nel non sentirlo che non sento manco di una qualche dimensione del sentire io vedete quindi come il lettore viene venga sballottato all'interno dei pensieri di Davide e spesso vado a sbattere contro una sorta di di rifiuto della realtà che l'autore fa in determinati casi questo vorrei sottolinearlo c'è un rifiuto della realtà o come minimo c'è una voglia di non appartenere a una realtà però poi questo lo voglio sottolineare perché poi ci sarà una sorta di superamento già all'interno del libro di cui forse non si è reso conto l'autore però poi ne parleremo ecco della seconda parte il poemetto della Vergine di Scisa non vorrei dire molto e sicuramente non leggerò il poemetto perché voglio che voglio che siano i lettori a incuriosirsi e andare a leggere qualcosa che di sicuro io non avevo mai letto è una cosa molto particolare è molto breve sono sono veramente poche righe però vale la pena interiorizzarle secondo me anche perché a prima lettura è quasi sconvolgente poi una seconda lettura è un po' terrificante e a una terza lettura in realtà inizia inizia a entrare nel lettore quindi io vi consiglio non lo leggerei vi dico solo che è diviso in sei parti io li definirei quasi sei atti teatrali beh ma molto breve è una paginetta per atto vedete per parte e quindi è di facile lettura io passerei subito alla terza parte che è quella dedicata alla poesia che poi è quello che che io ho prediletto di questo libro insieme alla prima diciamo che nelle mie recensioni non andrò mai troppo a fondo sulla struttura delle poesie per farne una critica tecnica perché non penso di avere gli strumenti per farlo e penso di aver letto troppo a poca poesia nella mia vita di 22enne per poterne giudicare a livello tecnico alcuna però devo dire che qui beh posso dirvi subito che non ci sono rime che la struttura è libera che le varie poesie tra loro c'entrano poco a livello strutturale quindi non abbiamo una struttura che si ripete e non abbiamo nemmeno una tematica che si ripeta nemmeno un linguaggio questo probabilmente si deve al fatto che la poesia è stata scritta in periodi differenti io so di Davide che questo libro l'ho scritto all'incirca ai 18 anni quindi è un libro di un ragazzo di 18 anni che probabilmente sta attraversando un periodo un po' strano della sua vita e quindi niente non abbiamo una ricorsività all'interno della poesia però devo dire che a me è piaciuta molto è una poesia quasi primordiale la definirei nel senso che l'autore non è stato molto a lavorare di lima ecco è un libro molto impulsivo questo è quello che è apparsa a me infatti caos di cose a caso penso che si rifaccia questo il titolo al fatto che lui aveva bisogno di di scrivere determinate cose e aveva bisogno di un caos questo c'è anche all'interno della poesia poesia che però riesce comunque a essere bella non si può definire questa una brutta poesia perché non è una poesia molto elaborata a me è piaciuta molto e ne vorrei leggere una per essere chiaro su questo e anche per parlare per tornare al superamento del rifiuto della realtà che a me ha colpito molto quasi commosso il deserto si staglia ancora vasto davanti ai miei occhi mai ho cercato qualcosa fuori di me fin quando ti ho vista la mia vita ha provato a nasconderti per troppo tempo ora sei sgorgata dal mio cuore e ancora non ti ho conosciuta il tuo cuore si occupa d'altro la roccia protegge i deboli il deserto si staglia ancora vasto davanti ai miei occhi camminare camminare fin là dove tutto cessa la roccia non ha più modo di esistere nel deserto si frantuma e si disperde tra i resti di altre gabbie finché la luce risplende del mattino celeste beh non mi non mi soffermerò sul commento di questa poesia a me è piaciuta veramente tanto e questo in generale è un libro che io consiglio e lo consiglio per due motivi il primo è che sicuramente leggerlo mi ha arricchito e io l'ho letto prima come lettore ingenuo quindi come lettore che voleva fare una lettura e poi l'ho letto ultimamente per farne una critica a voi una pseudo critica a voi del martedì ecco a me ha lasciato molto e e lo dico con orgoglio perché il secondo motivo per cui sicuramente ve lo ve lo consiglio è che Davide Maselli è il mio carissimo amico certo questo probabilmente mi rende un po' parziale è vero ma penso che sia importante anche conoscere l'autore della poesia per essere in grado di capire l'universo che sta attorno a questa poesia e magari a un lettore diverso da me questo universo non arriva a pieno nella lettura però vi assicuro che c'è tanto da imparare anche da un ragazzo che ha scritto a 18 anni adesso lui è anche più grande di me però è veramente sorprendente a me ha arricchito molto quindi lo consiglio a tutti voi e poi concludo facendo gli auguri a Davide perché si sta laureando e a giorni la sua laurea Davide è un collega quindi si sta laureando in psicologia e quindi concludo augurando facendo i miei migliori auguri per la sua laurea e salutando voi e ci vediamo alla prossima recensione che arriverà tra poco per i martedì del libro ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti